Il santuario dei Morzi del Lavello era molto conosciuto qui in zona, nell'Abrianza. C'era il bosco, non era ristrutturato così, l'ha ristrutturato il Don Celeste d'Op, con tutte le piante. Io mi ricordo queste piante con appesi, le bende. Ogni rano aveva la sua benda. Era come un segno da far guarire l'ammalato. Quello straccio lì, c'era un magagno sul braccio. Lo trofinavano e lo portavano su al Morzi del Lavello, come per dire ricordare di questo straccio, che di questo signore che ha bisogno di un miracolo. Era lì tutto. La devozione alla Madonna del Carmine, che è sempre stata considerata una Madonna miracolosa. C'è questo masso del Lavello, da dove scaturisce quest'acqua che viene ritenuta miracolosa. Intorno a questo masso delle piante di rubinia, che sono classiche in questo paese. E attaccati a queste piante di rubinie c'erano dei fazzoletti. Ed erano un po' gli ex voto di una volta. Cioè, ognuno che riceveva una grazia attaccava un fazzoletto. Mi ricordo che era una cosa veramente, come si può dire, non dico impressionante, però c'era veramente un sacco di questi fazzoletti legati alle piante. A Bulciago, e poi anche alcuni in giro qua, erano molto devoti ai morti del Lavello. Molto ne odi. Mi ricordo che ha provato ad andare su anche mia mamma, quando mio papà era in certe condizioni. Quella vasca che c'è lì, sui gradini, quella lì, dicono che quando c'è stato il mio tifo, quelle malattie lì che c'erano una volta, li mandavano su perché erano infettivi, si infettavano la gente, allora li mettevano fuori, li separavano e stavano su da soli, lì al morto del Lavello, perché allora mi sembra che non c'era la chiesa. Più che altro c'erano quelle vasche lì con dentro l'acqua dove si lavavano. Comunque, lì è molto antico quel posto lì. La chiesa l'è stata fatta dopo, ma dicevano che tutti questi appestati, non so io cosa avevano esattamente, che erano infettivi, li mandavano su lì, li lasciavano su. Lì sotto il santuario dicevano che c'erano sepolti i, diciamo, quelli che erano morte di peste. La storia del Lavello, cioè il fatto che questo masso sia capitato lì, sinceramente io non conosco la storia a fondo. So che però è sempre stato considerato miracoloso, ma miracolosa anche la cappellina, perché prima che costruissero il santuario, sulla strada, lì c'è un sentiero che ai tempi, mi avevano detto, collegava l'ecco a Milano. E su questo sentiero è sorta questa cappellina, perché appunto la tradizione diceva che vuole che la Madonna sia apparsa. E quindi tutto quello che è conseguenza è la costruzione del santuario, il masso del Lavello, l'acqua miracolosa, i voti, gli ex voto appunto dei miracoli o delle grazie che faceva questa Madonna. E devo dire che questa devozione non è solo di Bulciago, ci sono tante persone che sono devote a questo santuario, in particolare alla Madonna, anche da fuori, quindi anche da lontano, devo dire. Alla fine dell'anno, come azione cattolica, il gruppo francescano Piccolibro, facevamo una messa o un rosario, secondo se c'era il padre che dice, lì come chiusura dell'anno, e poi facciamo una festicciola lì fuori nel prato del santuario, con gelato, con dolci, anche adesso ultimamente. Allora c'è un triduo, una novena prima in preghiera, e poi c'è tutta questa organizzazione che fanno da mangiare, che ci si prenota piuttosto. Poi organizzano anche dei giochi per i bambini, quei giochi che usano adesso per tenere al pomeriggio, magari che vanno giù. E poi si faceva anche una processione nel prati, che si tornava verso la chiesa di Santo Stefano a Bucciaghetto, poi attraverso i prati si ritornava pregando, cantando, per ringraziamento o per benedizione alla Madonna. Tutti gli anni la facevamo quella, al pomeriggio della domenica. Poi il lunedì c'era di nuovo la festa, si protraeva anche il lunedì, non solo la domenica, e poi facevano anche i fuochi d'artificio. Era molto sentita. Grazie a tutti.